Introduciamoci anche noi oggi nella casa di Simone che aveva invitato a cena Gesù e durante quella cena si era intrufolata anche una donna, una peccatrice che aveva ovviamente attirato l'attenzione di tutti. Dopo quello scontro che ci fu tra Gesù e Simone, Gesù concluse le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato, invece a quegli a cui si perdona poco, ama poco. Allora per essere amati bisogna peccare molto, ma io so una cosa, che Gesù ha detto si fa più pesta in cielo per un peccatore che si converte che per novantanove giusti che non hanno bisogno di penitenza. A parte non ci sono. Ma allora? E allora per Pasqua abbiamo cantato colpa felice che ha meritato un tanto redentore. E Agostino continua quello che diceva San Paolo. Tutto coopera il bene di coloro che amano Dio. Sant'Agostino continua anche il peccato. Il peccato è la ragione della manifestazione della misericordia di Dio. Francesco di Salle scrive che il trono della misericordia di Dio sono i peccati degli uomini. Dio è misericordia.